Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Sonic Frontiers Nello scorso episodio abbiamo sbloccato questa zona per proseguire con la modalità storia e con la storia principale E in questo episodio dovrò lavorare con queste cose che sono quanto pare lapidi Ok, una piccola cosa riguardo al video Vi consiglierete qualcosa di diverso perché ho provato a cambiare qualche impostazione per renderlo più in HD Spero che si viva tutto bene E se ho voluto che l'audio non sia ritardato Ok, intanto sì, ho evoluto un pochino i ring, infatti sono stati di 6 E anche l'attacco e la difesa sono aumentati di 1 Quindi, sì, ogni tanto tra un episodio e l'altro capiterà che io faccia delle cose Ah, e ho anche fatto... ho anche finito al 100% i livelli di Sky Sanctuary e Green Hill Quindi adesso ho completato praticamente tutto quello che serviva Allora, cominciamo con questo Credo che sia la stessa cosa delle statue all'inizio del gioco Eh, aspetta Ah, ho capito Dunque, tecnicamente devo fare cosi... non così? Sì, tecnicamente sì Ok Questo invece deve andare in su... in linea teorica Giusto Ah, manca quello di sopra Ok Che devi andare qui E infine questo Che va... da questa parte però, da questa parte non funziona Fai provare... questo Quindi questo poi andrebbe... di qua E questo Ehm... questo così però poi Se invece lo accessi... no, eh... così... sì, giusto Ehm... Ci l'hai fatta, Sonic Riesco a sentire il Titano Ci siamo È lo scontro finale Uno scontro breve se prima non trovo l'ultimo Chaos Emerald Ho cercato dappertutto Ma sono accorto di idee Dove può essere? Ah, forse lo troveremo per strada Forse... E comunque sì, avevo ragione Quella parte... Che vista? Mi ricorda le cascate delle Misty Crew Ah, di quella parte Introduceva chiaramente una battaglia boss Eh sì Riferimento a Misty Crew Ok Da questa volta c'è qualcosa? Mh... credo di... No Non cadere Non cadere Non cadere Vabbè Non dovrei morire da qui No, infatti Però È un po' noioso Non usciamo qua Facciamo così E torniamo là Ok Ah, stavolta non proverò A andare da nessuna altra parte Se non su questo Noi Perché mi serve Per la storia Ok Dai Deve esserci quasi Non c'è Grazie a tutti Sonic non può eguagliare la potenza del giganto O non ancora Raggiungi la testa di giganto per trasformarti in super sonic Ok ecco qui il nostro primo titano Ah dunque qua cosa posso fare? Ah nulla di particolare sembra Allora cosa faccio? Devo rampicarmi letteralmente su di lui? Ok sembra il si Fammi salire Ok Corri, corri Non cadere Ok Ci sono quasi Dai Super Sonic non subisce danni Ma mano a mano che lo scontro procede per dire ring A causa dei limiti di tempo per vincere dovrai infliggere in maniera efficace danni pesanti Sconfiggio il nemico utilizzando la conoscenza e le tecniche di Sonic Ok Vai subito Ok Per fortuna ho le... Ok Cavolo Ho la combo praticamente automatica Ok Dai Non sta andando troppo male Ah per poco Ok Non ho idea di come fare Ah A schivare Dai Non è possibile così Ma Come faccio? Scusami Ah Capito Ah no non ho capito Aiuto Ehm Ah dai ma Ok Facciamo anche il giro intorno Che così magari Non mi spinge via subito Ok Dai Vai 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 Attacca Attacca Ah Ah È poco L'ho schivato Cioè Sto per schivare Nel senso Ah Non avevo visto che fosse così vicino Accidenti Dov'è? È qui Non mi Fai toccare Lasciami In pace Vai 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 Ah ho capito Devo semplicemente Mettermi Dall'altra parte Ok Mi mancano 300 secondi Ce la faccio In 300 secondi Non lo so Vai Giro Dai Su Ah non so come far schivarlo Accidenti Ok Sono praticamente Metà vita però Ok Attacca 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 Sono quasi A metà No Pensavo di averlo schivato Stavolta Ouch Non Avevo visto Che fosse così No Ok Vai Vai E se a cosa potrebbe essere abbastanza scenda Vabbè Uh L'ho schivato Ouch La musica non mi fa impazzire Posso dirlo? Posso dirlo Sì che posso dirlo Permettimi di dirlo La musica non mi fa impazzire Ok Uh quasi L'avevo quasi schivato Ok Con 230 secondi Potrei Potrei farcela Sto cercando di dire Prima che mi colpissi E mi andasse all'altro mondo Ok Vai Vai Non manca troppo Uh Ok Vai vai Spamma 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 Ci sono quasi Super Saiyan E' letteralmente Super Saiyan Questo attacco è lo Super Saiyan Ok E' anche il Civilization 06 in effetti Ma non importa Vai Ci sono quasi Uh Ok 200 secondi Uh Non Sarà Troppo Complesso Distruggerlo In questo Tempo Oh cavolo Sta per mangiarmi Sta letteralmente per mangiarmi Questo tizio Vai In fretta In fretta In fretta Sonic Sbligati Sonic Sbligati Sonic Ok Prendi questo E Vai Via Ok Ok Eh Non credo sia troppo complesso Uh Si sta corrompendo Perché si sta corrompendo? Ok Vai 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 Manca poco Manca poco Manca poco Ok Ok Vai 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 Adesso ho capito come si fa Adesso ho capito come si fa Ok Manca pochissimo Eeeh Addio L'ho detto Addio Il primo sigillo è infranto Un altro nemico Ti attende sull'isola Segnata dalla sabbia Giusto Hai detto titani prima Al plurale Ciavolo Non sarà finita Finché non avrò steso Tutti i robottoni Mi spiace Inizio a ritrovare me stessa Sta funzionando Continua così E torna presto Sarò di ritorno Prima che tu legga le tue carte Ciao Hai conquistato Cronos Erland No va bene così Non volevo che fosse troppo facile Ok Siamo arrivati sull'isola Di Ares Eeeh Ares No aspetta Davvero Ares si Ok Cominciamo con questo Uh Ok Eeeh Rivedete questi simboli Sopra le medaglie Si E' lui E' lui Oh Che cosa Che cosa sei Oh Ok Ah dai Ma non avevo preso quello Accidenti Ok Ci riprovo Dov'è Eccolo Ah no Danni neutralizzato Lo solo Va bene Ok E proviamoci Stavolta una guardia senza Farmi colpire Vai 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 E Medaglia di Knuckles Eh si Di Knuckles Perché Non è spoiler Chiaramente è di Knuckles C'è il suo simbolo Oh Posso per favore Grazie Dunque Questo però ho visto Esatto Questa Capsula Che contiene Di puntabilità Va bene Abilità Espedienza Tu che cosa sei No aspetta Ok Non mi importa Andrò a vederlo Tra poco Ok Ah dunque Torniamo indietro Ecco Tu cosa sei Oh Ok Sei tipo Un nemico Molla Ok Quindi devo saltare Sul di te E fare la schiacciata Per sconfiggerti Capito Vieni qui Ok Non male E qui ci sono I classici nemici Giusto Oh Ok Non le ho Mi visti fare questa cosa Ok Stanno diventando Più potenti Vedo Non basta più un colpo Per Ouch Per abbatterli Ok Pensiamoci Sbaglio O Sta diventando Più Più Il Sile Ok Non importa Sto per raggiungere Il massimo Ok Sono tutti Dentro di scudi Quindi posso Attaccarli Sì Ok Riproviamoci Eh No Per favore Grazie Ok E addio Perfetto Che cosa Che cosa Che cosa Cosa è questo Oh Ok Allora questo perché qui Non ci sono Altri Prendi Acceleratori Oh no Ho sbagliato Oh salve Che cosa Che cosa sei Non so Ah Ok Tipo un Cannone Va bene Vai in cerca Degli amici Sì Di Knuckles Però prima Voglio esplorare un po' qui Per prendere Un altro po' di medaglie Che sicuramente Mi serviranno le medaglie Per sbloccarlo Anzi sicuramente Me ne serviranno un po' Ok Un po' ce li ho Oh Non vedo l'ora di vedere Knuckles Perché nel Ehm Non era proprio un trailer Però Comunque Nell'animazione Era fantastico Nell'animazione Che è uscita Ehm Il prole Insomma Divergenza Era fantastico Ok Dunque Che cosa abbiamo Ok Salve Ti attacco Adesso Sign loop E Basta Con un solo colpo Va bene Questo che cos'è Uh Vento là Oh capisco Ok Uh Stavo per cadere Stavo per cadere Non cadere Non cadere Ok 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 E Via Potevo Potevo prendere La molla Non lo so Che cosa sei Oh capisco Ok Carino Più o meno come Un mini squid In un certo senso Anche se lui non mi Attacca Ok Ehm Qui Questo è un canyon Sì Sì Bello Cosa posso trovare Qui Vediamo un po' Ok Molla Uh Aspetta Qui ci sono di coco In effetti Abbiamo visto Se i coco Sono uguali O diversi Vabbè Oh Aspetta Come faccio A prendere Quell'altra molla Ah E' questa Ok Vai Ok Salve Ok Facciamo Un bel Scylop Lungo Ok 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 Vai No Ma dai Ma non giusto Ok Addio E Voi siete gli ultimi Addio Ok Perfetto Prendiamo questa medaglia E questi sono coco No sono cactus Mi fanno un danno i cactus No Ok Oh Oh Quello mini boss Che ho visto nei trailer Dai Perché non posso Fare L'attack combinato Su quella molla Aspetta 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 Qui ci sono i coco Vero Ci sono i coco Sembrano degli ananas Sembrano degli ananas Sì Sembrano degli ananas Ok Ok Sumo Ok Va bene Devo Attaccarlo da dietro Sembra Ouch Ehm No Danmi Questi Ringhi Magari Per favore Grazie Oh Ma dai Come è possibile Devo Forse fare un Scyloup Se voglio fare Qualcosa Scyloup Oh sì Bello Bello Mi piace Dai 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 Ouch Ok No Ridammelo Dai Non c'è neanche Il damage boost Però Non è possibile Così Ah Riproviamoci Sumo Wow Ho sconfitto Un boss Senza prendere Danno E contro Un miniboss Devo Perdere Perfetto Riforniamoci D-ring Ok E adesso Riproviamoci Ok Adesso Fammi fare Il Scyloup Per favore Vai Attacco Del fin di Sonic Ouch Ok Non mi ha fatto Danno Ah Così Direttamente Devo fare Ok Aspetta Questo Ok Ah No Ok Ho capito Sono subito Adesso Vai Da questa parte Ah Dai Ah No Sono Più Stupido Di quanto Credessi Devo fare Il Scyloup Poi colpirlo Ok Ah Aspetta Dunco Dove sono Quelli Traficati Non so Non importa Sono lì Ok Giusto Va bene Ok Vai 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 Così E basta Non fare Non fare Questo attacco Bravo Bravissimo E adesso Così Ok Perfetto Non mi aspettavo Ouch E Addio Perfetto Uh E lì c'è un livello di saberspazi Ok Allora ci andiamo tra poco Prima vorrei capire come arrivare da sopra Sicuramente è un 1 così Ah Lo fa Ok Dammi queste medaglie C'è un Sì C'è una molla E nient'altro Ah no Questo è un livello di saberspace Pensavo fosse un trono Ma qua sembra un trono Ok Allora Direi di andare da Knuckles Ah Intanto Ehm Prendo un po' di ringe Se non mi dispiace Ok 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 No Col turbo è troppo veloce Ok Vai 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 Adesso faccio il simbolo di infinite Non ce l'ho fatta Adesso faccio il simbolo di infinite Adesso Faccio il simbolo Ok No non importa Ok 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 Ancora E eccoci qui Ok Tu cosa sei Ancora il nemico Ma di prima Va bene E qui No non ci provare Non ci provare Non ci provare Addio Ok Vediamo Vediamo Qui Se ci sono già stato O non ci sono già stato Non ci sono già stato Ok Uh Là C'è un livello di super spazio Prima però Vado da Knuckles No Fermo 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 Perché tutti questi nemici Mi danno fastidio Ok Uh Là c'è un boss C'è un mini boss In realtà Si chiama guardiano Non mini boss Salve Mi sa che Come si chiama strider Questo mini boss Ok In ogni modo Lo batterò Nel prossimo episodio Adesso L'unica cosa Che farò Sarà Liberare Knuckles Che Knuckles giusto Si Knuckles Knuckles Cosa ci fai qui Lasciamo stare Ti tiro fuori Tieni duro Bene Sono ancora a metà fantasma Ci sto lavorando Ok Che cos'hai che non va Ha solo un effetto secondario Della strana energia Dell'isola Cosa fai così lontano da casa? Stavo indagando su delle strane rovine Sono stato trasportato qui E sono stato trasportato qui Entra Non ci si annoia mai con te Com'è la situazione Richard? Allora Aiutami a trovare Chaos Emerald In modo che possa stendere Dei robotoni Presto sarai libero E potrai tornare al Master Emerald Direi che si può fare Tu sei la chiave Sfrutta al meglio Questo potere Ripeto Questa voce è molto inquietante Ok Comunque si Abbiamo sbloccato Knuckles E la sua voce è stupenda Devo proprio dirlo È davvero stupenda Altri macchinari di Eggman Forse stava progettando un'invasione Ma allora dov'è? Quindi si Nel prossimo episodio Indagheremo un po' di più Su questo posto Quindi Tra due secondi Ah Sì Ok va bene Ah no Non volevo fare Questa cosa Devo allontanarmi Perfetto Ah Sapete che cosa mi ricordo Questa ambientazione? Ah Mi manda Loriano Sharp No non voglio Perché Continuo a sbloccare Ah Sì Diamine era quello Non so Non mi importa Devo allontanarmi Ok Sono abbastanza lontano adesso? Da chiunque? Sì Direi di sì Ok Quindi Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.